Nome. Timea Faludi. Soprannome. L'angelo nero. Numero vittime. 40 sospette. Modus operendi. Iniezione letale. Timea Faludi nasce nel 1977 a Budapest, Ungheria. Era una ragazza solitaria, ed un'aspirante infermiera che, appena finiti gli studi nella scuola per infermiere, a 18 anni, ha iniziato a svolgere questa professione nel reparto per malati terminali, nell'ospedale di Gyalanviro, uno dei più importanti della capitale ungherese, Budapest. È felice, finalmente può mettere in pratica ciò che ha imparato a scuola. Le sta particolarmente a cuore l'umanità dei pazienti. Ascoltarli, farli sentire compresi, e confortati. Timea vuole solo essere una brava infermiera. È una ragazza robusta, forte, idonea, dunque, per sostenere il peso dei malati. Ma qualcosa cambierà i suoi obiettivi. Quella che poteva essere la soddisfacente sensazione di potere nell'aiutarli, ora quella sensazione prende una piega oscura. Tra il 2000, e il 2001, si è verificata un'impennata inspiegabile di decessi all'ospedale. Con il passare del tempo, questo fattore fa insospettire il direttore dell'ospedale. L'incremento delle morti avviene solo di notte e, coincidenza vuole, sempre quando risulta in servizio la stessa infermiera, Timea Faludi. Ciò che fa scattare le indagini, e di conseguenza l'arresto, è la testimonianza di un infermiere, il quale vede la ragazza iniettare alte dosi di calmanti per via indovenosa. Timea ha solo 24 anni quando viene arrestata con l'accusa di aver avvelenato ed ucciso i pazienti. Ora bisognerà capire il numero di vittime. Timea confessa subito. Dice di aver ucciso otto persone, giustificandosi dicendo che l'ha fatto per pietà, per misericordia, per porre loro fine alle sofferenze. Ma gli psichiatri, ed i criminologi che seguono l'indagine, sanno bene che il motivo non è quello. I casi come quelli di Timea sono storici e famosi. I cosiddetti angeli neri, o angeli della morte, sono psicopatici freddi, calcolatori, bugiardi cronici, e narcisisti. Non uccidono per pietà, ma per la sensazione di potere sulla vita e la morte delle persone. Timea è una di loro. Nel frattempo, l'ospedale entra in un vortice di polemiche. Perde di credibilità, fiducia, i parenti dei ricoverati vogliono farli trasferire in altre strutture. La stampa ne alimenta il fuoco. Ci si chiede come è stato possibile non accorgersi prima. Il direttore dell'ospedale, Gabort Akex, che è stato il primo a lanciare l'allarme, risponde alla domanda più comune che la gente e la stampa si pone, ovvero, come detto prima, come prevenire questi avvenimenti. Risponde che il sistema sanitario non può proteggersi se una persona con deviazioni mentali, psicopatica, o con disturbi della personalità ci entra. Nel caso di Timea, si trattava di una ragazza insospettabile, che lavorava lì da sei anni. Era esperta e professionale. Dunque, è molto difficile prevedere personalità psicopatiche di questo tipo. Dunque, il direttore ordina un'indagine nazionale, da parte dell'ufficiale di sanità pubblica, in ogni ospedale ungherese per riconquistare la fiducia del pubblico nel servizio sanitario. Nel frattempo, la ragazza ritrae la confessione, dichiarandosi innocente, per poi confessare, questa volta, più di 40 omicidi. Venuta a conoscenza, successivamente, della cremazione dei corpi, e quindi della mancanza di prove, ritrae di nuovo la confessione, dichiarandosi innocente. Il processo definitivo si apre nel dicembre 2002 per Timea Faludi. Nonostante sia sospettata di un minimo di 40 omicidi, a causa della mancanza di prove, viene accusata solo di molteplici tentati omicidi, e condannata a nove anni di carcere. Verdetto che suscita non poche polemiche. Viene scarcerata nel 2009 per buona condotta.